Si erano presentate negli uffici di un'azienda di Scafati per chiedere 250.000 euro ad un facoltoso imprenditore del posto. Le due persone, nei cui confronti i militari del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziati di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno per tentate estorsioni, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità mafiosa. I due infatti operavano per conto del clan camorristico dei Fontanella, operante in provincia di Napoli, a Sant'Antonio Abate. È stato proprio il facoltoso imprenditore attivo nel settore dei trasporti a sporgere la denuncia a seguito della quale è quindi partita l'attività di indagine condotta dal nucleo investigativo di Torre Annunziata. Le indagini hanno consentito di ricostruire quanto accaduto e cioè che le due persone si erano, come detto, presentate negli uffici dell'azienda di Scafati con l'intento di intimidire l'imprenditore proprio facendo valere la propria vicinanza ad un'organizzazione criminale, appunto il clan Fontanella di Sant'Antonio Abate. Dalle indagini è emerso anche che i due indagati avevano agito in concorso con altre due persone, già detenute dallo scorso 29 luglio, perché responsabili di una simile estorsione, sempre aggravata dal metodo mafioso e sempre con la finalità di agevolare la stessa organizzazione criminali nei confronti delle due persone, era stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli.